Oggi alla COP26 è stato il giorno di Greta Thunberg, ma non dentro la conferenza sul clima, ma fuori per le strade di Glasgow. Oggi alla COP era la giornata dei giovani, dedicata ai giovani, ed era in programma la presentazione di due documenti, uno dei giovani raccolti dall'Agenzia dell'ONU per il Clima, l'UNFCCC, e l'altro il documento dei giovani della Iofco for Climate, la conferenza dei giovani sul clima voluta dal governo italiano a Milano. Ma in realtà l'evento clou è stato il corteo con almeno 10.000 persone, organizzato da Fridays for Future per le strade di Glasgow, con la partecipazione di Greta Thunberg. Greta ha portato sul palco per ben tre ore prima del suo intervento tutta una serie di giovani attivisti dai paesi meno sviluppati che hanno denunciato lo sfruttamento dei loro paesi. Dopodiché è intervenuta Greta, che ha detto che sostanzialmente la COP26 è stata un fallimento, aveva solo bla bla e greenwashing.